Buongiorno amici di Varesotto, trovate strano vedermi davanti a una telecamera ma voglio approfittare dell'occasione per ringraziare tutti i miei amici che mi seguono e volevo ringraziare il mio staff che ha potuto realizzare il Varesotto, che siamo disponibili, sensibili a tutto e cerchiamo di seguirvi, quest'anno mi prometto di seguirvi più da vicino con i servizi, auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti, ciao!